Non so come verrà sta ripresa, ma qui siamo sul tetto del mondo e adesso l'ombelico del mondo. E adesso scolliniamo, la quota del GPS è 972 metri, oggi non so quanto abbiamo fatto di livello però è 1500 metri, tutta salita, lì in fondo forse si vede uno zicchio di vertita, non so ma non è fatto nè possibile, comunque qua lì in fondo è Mumbara, poi abbiamo il campo eolico di Buzuzo, la mia bici, Giuseppe, Serratino, la mia risposta è un cazzo sarebbe una battata, tu ci aspetti dove eri prima adesso, e niente, poi proseguiamo verso Bono, benissimo, vi ricordo che il 30 ottobre ci sarà la crono scalata di Montemoro Coppa Cravolezda, Ok, con Monteprimi, con Monteprimi messo a disposizione da Mr. Cravolezda, ma si è po' pronto, ciao!